San Giovanni Paolo II diceva, famiglia diventa ciò che sei. Con questo il Papa intendeva dire che la famiglia è una cosa, ma che non vive secondo quello che veramente è. Allora io della famiglia posso avere diverse verità, diciamo, diversi punti di vista. Alcuni saranno più profondi degli altri, per esempio io potrei capire cosa è la famiglia da alcuni aspetti storici, per esempio, o uno studio sociologico. Potrei avere una visione ancora più profonda della famiglia attraverso uno studio filosofico, per esempio. Però la visione più vera della famiglia, ciò che la famiglia veramente è. A noi molto spesso ci chiedono la famiglia, padre, che devo fare? Come devo fare qua? Come devo fare là? Però la prima domanda è, padre, che sono io? Che cosa è la mia famiglia? Bene, la visione più profonda di cosa è una famiglia è la visione che ha Dio della famiglia. Se noi potessimo vedere con gli occhi di Dio cosa è la famiglia, lì avremo veramente la visione più profonda. E questo che diremo lo diciamo di qualsiasi famiglia, anche di una famiglia che ha dovuto soffrire, per esempio, la mancanza di uno, l'abbandono di un altro, qualsiasi sia la situazione familiare, secondo Dio la famiglia ha una definizione bellissima data dal Concilio Vaticano II. La famiglia è una chiesa domestica. Chiesa domestica. Allora, non si parla che la famiglia sia una chiesa come se fosse una cattedrale, come la struttura. Non si parla della famiglia come un contenitore di persone. Si parla della famiglia come chiesa, come la unione tra i battezzati. Così, quello che è la chiesa cattolica, in sé stessa, la famiglia è propriamente questo dentro, però, la propria casa. Con i propri membri, con i propri integranti di questa famiglia. E quindi, così come Cristo istituisce la chiesa, perché continui la sua opera di salvezza, quella chiesa che sarà barca di salvezza, dallo stesso modo, quello lo realizza la famiglia all'interno dei propri membri. La famiglia sarà quella barca, quel veicolo, per la salvezza eterna. Questo è il piano di Dio. Dovete dare a questa espressione molta profondità. Io voglio parlare un po' di che significa questo, che la famiglia sia chiesa domestica, e poi vorrei fare due riferimenti a che significa dunque che cosa è un papà e che cosa è una mamma. Sempre con lo sguardo di Dio, con lo sguardo sopranaturale. Allora, che la famiglia sia una chiesa domestica significa che quello che la chiesa è in sé stessa lo è anche la famiglia. Avrete sentito parlare spesso delle noti che ha la chiesa. La chiesa è una, santa, cattolica e apostolica. Io seguo le riflessioni di un dottore che segue le problematiche familiari in Argentina, molto giovane, e lui fa notare come la famiglia ha le stesse note. E' molto importante questo. Anche la famiglia è una, dice lui, santa, cattolica e apostolica. Anzitutto la famiglia è una. Non esiste un corpo che abbia due teste. La famiglia è la unione di uno con una per diventare una sola carne, non per diventare due persone o due teste. Quando una cosa ha due teste è un mostro. Si dice un mostro di natura. Quindi marito e moglie si uniscono, propriamente come una comunità. Non è vero che la famiglia sia un semplice contenitore. Io, se voi volete capire cosa non è la famiglia, potete cercare su Google. Se voi scrivete cosa è la famiglia, lì capirete cosa non è la famiglia. Perché diranno tante definizioni. Tra queste la più frequente che ho trovato è Famiglia, dizionario di Oxford. Nucleo sociale rappresentato da due o più individui che vivono nella stessa abitazione. Due individui che vivono nella stessa abitazione. Di norma, non sempre, ma di norma, sono legate tra loro col vincolo del matrimonio o da rapporti di parentela o di affinità. Due persone affini, abitano nella stessa stanza, abitazione e con una famiglia. Poco fa ho sentito una spiegazione dei diversi tipi di famiglia e poi c'era la famiglia di un solo membro. Cioè una persona che abita a casa sua è una famiglia. No. Si tratta di unione di due, anzitutto. Marito e moglie. Però non si tratta di una unione di due individui indistinta. Al contrario. L'uomo e la donna si uniranno per formare una sola carne. Quella unione familiare è fondamentale. E questo si darà nonostante differenze. L'uomo e la donna sono diversi. Hanno diversi modi di relazionarsi, diversi modi di esprimere affetti, sentimenti. In quella diversità si trova la complementarietà che le fa diventare una cosa sola. La famiglia è una, deve essere una. E questa unità esige rinuncia. Rinuncia a se stesso per il bene dell'altro. Che la famiglia sia una è bellissimo, però esige rinuncia a se stessi. La famiglia in secondo luogo è santa. Gesù dice dove due o tre si irrudiniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Il Catechismo della Chiesa dice che dopo la unione del matrimonio, usa un'espressione molto bella. La Chiesa viene incontro ai coniugi cristiani attraverso il matrimonio. Cristo rimane con gli sposi. Rimane. Cristo resta. Con gli sposi. Dà loro la forza di seguirlo. Di rialzarsi dopo le cadute. Di perdonarsi vicendevolmente. Di portare gli uni i pesi degli altri. Di essere sottomessi gli uni e gli altri nel timore di Cristo. E di amarsi di un amore sopranaturale, tenero e fecondo. La famiglia è questo. La famiglia è questo. E se tu dici, no, ma la mia famiglia non viviamo questo. Bene, è ora di viverlo. Perché la famiglia deve diventare ciò che è. La famiglia è una. La famiglia è una. E' santa. In terzo luogo la famiglia è anche cattolica, cioè universale. La famiglia deve, non è un annuncio soltanto per i propri figli. La famiglia deve essere fermento di tutta una società. Voi pensate noi che abbiamo iniziato la nostra scuola a Vitorchiano e noi diciamo, volevamo ricreare uno spirito di famiglia. E come lo facciamo questo? Attraverso le famiglie che ci sono. Se non ci sono famiglie, come si può generare uno spirito di famiglia? Nelle nostre comunità religiose, per esempio. Seminario, lo studentato, le suore. Dove noi abbiamo questa marcata decisione di avere spirito di famiglia. Pensate a questo incontro, dove c'era veramente un ambiente di famiglia. Non c'erano famiglie, ma c'era un ambiente di famiglia. Però grazie a chi? A chi si realizza questo? Alle singole famiglie che vivono quello che sono, che diventano ciò che sono. E la stessa società, se non è sostenuta dalla famiglia, non è che la società, che la famiglia si ordina alla società. È al rovello. La società è per la famiglia. Se la famiglia non diventa quello che è, evidentemente la società sarà molto corrotta. In quarto luogo, la famiglia è apostolica. Voi pensate a quella famiglia che veramente diventa ciò che è. Che veramente è una chiesa domestica, un luogo di salvezza, una famiglia esemplare. L'annuncio che questo significa per gli altri parenti, per gli amici, per le altre famiglie del proprio quartiere, della propria città, del proprio paese. Ha una dimensione apostolica, missionaria. Ha un annuncio da offrire. Ogni famiglia singola, però come famiglia. Non come il papà annuncia questo, la mamma questo. E non che una famiglia debba predicare, necessariamente. Se la famiglia diventa ciò che è, necessariamente dà un annuncio. E qui vorrei parlare dei due ultimi punti. La chiesa, quindi la famiglia, abbiamo detto, è una chiesa domestica. La chiesa ha una gerarchia. Gesù ha istituito una gerarchia. C'è anzitutto un capo che è Cristo. Poi insieme il suo vicario, il papa Francesco. Da papa Francesco, cardinali, vescovi, c'è un ordine gerarchico nella chiesa. E questo ordine si dà anche nella famiglia. Non tutti fanno la stessa cosa. Neanche nella chiesa una suora fa che fa un sacerdote, un laico fa quello che fa la suora. Non è così. Ognuno ha un suo ruolo per la costruzione della chiesa. E lo stesso succede nella famiglia. E parliamo anzitutto del capo della famiglia, che è il papa. Un sacerdote diceva, se ci sono delle intere nazioni atee in questo momento, questo è dovuto al fatto che ci sono famiglie senza un padre. Lo ripeto. Se ci sono nazioni interamente atee, tutta la nazione, è perché oggi ci sono famiglie senza un padre. Il ruolo del padre è insostituibile. Ed è altissimo. Si dice addirittura questo. Così come la famiglia è una chiesa domestica, si dice che il padre, con un'analogia, è il sacerdote della sua famiglia. È un'espressione molto alta, molto importante questa. Se abbiamo una società di papà che non svolgono il loro ruolo, evidentemente, dal capo, evidentemente, crolla tutto il resto. Un papà senza la capacità di determinare, di assumere il sacrificio delle proprie scelte. Un papà senza capacità, appunto, senza usare questa virilità, giustamente, per crocifigersi, per dare la sua vita come vittima. Io vi ricordo che il sacerdote, il sacerdote del Nuovo Testamento, si offre con Cristo come vittima anche lui, come Cristo si è offerto. Dire sacerdote è dire vittima. Il sacerdote deve imparare anche lui a offrirsi. E questo è ciò che fa il papà. Il papà deve, ed è tenuto, ad essere vittima per la famiglia. Gesù Cristo muore con il suo sacrificio, ottiene la grazia e, dallo stesso modo, il papà, con il suo sacrificio, ottiene la grazia per tutti i membri della sua famiglia. Si tratta anche di trasferenza di affetto. È vero che dalla figura del padre arriviamo alla figura di Dio padre, attraverso la figura del proprio papà. Da quella stessa figura partiremo alla figura di Dio padre. Però è molto più fondamentale questo secondo aspetto. Il papà deve offrirsi. È il canale di grazia della sua famiglia. Sarà lui a portare la grazia alla sua famiglia. Un sacerdote si chiede questo. Qual è stata la punizione di Adamo? Addirittura lui in realtà si chiede questo. Perché, essendo questa la missione del papà, perché la donna è più religiosa dell'uomo? Lo diciamo con una certa umiliazione. Però la donna è più religiosa del maschio. Abitualmente è così. Un sacerdote dice che questo è dovuto al fatto che nel peccato originale Adamo aveva un rapporto diretto con Dio, un rapporto immediato. Quando Cristo torna, quando Dio padre torna dalla sua, dice così, il libro della Genesi, faceva la passeggiata nell'ora della brezza per mostrare come Dio amava la sua creazione, si rallegrava con la creazione, vede che Adamo è nascosto e lo chiama. Il fatto che Adamo si sia vergognato, Dio subito gli chiede hai forse mangiato dell'albero di cui ti era stato proibito. Quindi il rapporto si era spaccato questo rapporto di Adamo con Dio. Questa è la ferita che si introduce in ogni uomo, in ogni maschio. Questo sacerdote dice invece Eva era veicolata dalla stessa figura di Adamo e da lì arrivava Dio. Quindi il suo rapporto con Dio è stato meno danneggiato. E' un'osservazione interessante però quello che a me interessa di più, più che questa distinzione, è la conclusione. Dice lui, quando un papà si impegna a lui stesso recuperare quel rapporto con Dio perso da Adamo, lo ripeto, quando un papà si impegna a riprendere questo rapporto filiale di amicizia con Dio Padre, è lì che quel papà diventa figura di Dio Padre. E' lì che quel papà veramente riprende per la sua famiglia il suo essere canale di grazia per tutti loro. Quindi fa molto di più un papà inginocchiato davanti a un tabernacolo per la sua famiglia che migliaia di discorsi. Senza opporre l'uno all'altro, non si oppongono. Un papà deve fare discorsi, deve dare consigli, però la prima cosa, la principale di tutte, è avere un rapporto personale con Dio, un rapporto di amico, di figlio con Dio Padre. e che cosa è la mamma in questa chiesa che è la famiglia? Bene, ogni corpo ha bisogno di una testa, abbiamo detto il capo che è il padre e il papà. E noi ci troviamo in un momento di molta confusione al riguardo, come se questo significasse necessariamente qualcosa di autoritario, no? oggi il comunismo ideologico fa vedere la figura del padre come la figura di un patriarcato oppressore. E questo per noi che abbiamo avuto i nostri papà è inammissibile e lo deve essere per ogni famiglia. se non c'è un papà papà maschio evidentemente Dio può Dio può sostenere le famiglie che hanno avuto una perdita come il caso nostro per esempio come il caso di molti di voi come il caso di disgrazie familiari di ogni tipo Dio evidentemente con la sua grazia riempie quello che potrebbe mancare. Sì, però di principio noi parliamo a livello di principio il papà è insostituibile e non si può mai parlare di un patriarcato il papà è uno che darà la vita come Cristo la data per la Chiesa il papà la darà per la moglie e dunque anche per i figli. E qual è il ruolo della madre? È un ruolo esattamente e ugualmente fondamentale perché così come non basta una testa perché un corpo sia vivo se non c'è un cuore si dice un cuore che porti sangue anche alla testa e a tutti i membri così è necessario che ci sia una madre che sia il cuore della famiglia. Questo dottore cita un proverbio arabo che dopo chiederò a padre Filopatì se è vero che dice Dio non può essere in ogni parte questo è sbagliato Dio è dappertutto però loro dicevano questo siccome Dio non poteva essere in ogni parte ha creato il cuore della madre per essere lì presente. La prima non è vera ma la seconda sì è vera perché il cuore di una madre dove impariamo noi ad amare dalle nostre mamme da quell'amore disinteressato per i propri figli per la propria famiglia da quel sacrificio è lì che noi impariamo quello che è la carità e a che serve avere una una testa una fede senza una carità evidentemente non basterebbe un cuore senza una testa anche questo sarebbe sarebbe veramente un mostro di natura una testa senza cuore neanche però la madre evidentemente esprime la carità che è il principale dei carismi pensate come le opere di misericordia sono tutte compiute dalla mamma la possibilità di esercitare continuamente le opere di misericordia della chiesa per citare alcune dare da mangiare all'affamato questo dottore che seguo metteva l'esempio di una una amica sua mamma che le ha detto quando i miei figli mangiano sembra che lo fanno con rabbia da quanto mangiava e quindi avere la carità di alimentare i propri figli avere la carità di dedicare tempo a questo è un'opera di misericordia nella quale consiste l'amore vestire a chi è nudo la mamma veste i figli insegnare a chi non sa consigliare pregare per i vivi e per i morti consolare i tristi quanto spesso siamo consolati dalle nostre mamme e così il cuore di Dio viene disegnato nel cuore della madre e quindi è questo ciò che si deve diventare poi vediamo quello che si dovrà fare però anzitutto il papà diventi sacerdote della sua famiglia la mamma diventi il cuore di Dio riflesso dell'amore di Dio nella sua famiglia e a quelle famiglie che hanno avuto una disgrazia di qualsiasi tipo fisica morale sappiano che quello che è un riflesso quando Dio toglie questo riflesso sarà lui stesso a colmarlo sarà lui stesso a provvedere da quello che manca perciò chiediamo questa grazia a Maria Santissima chiediamo questa grazia a San Giuseppe dopo Gesù Cristo i più grandi santi Maria e dopo Maria Giuseppe sono evidentemente santi familiari che hanno avuto la maggiore santità essendo madre sposa essendo padre lavoratore chiediamo questa grazia perché dai genitori deriveranno quando i genitori saranno sacerdote della famiglia e cuore di Dio per la propria famiglia evidentemente santificheranno i propri figli anche a loro insaputa chiediamo questa grazia per intercessione di Maria e Giuseppe